Beppe Masetti commenta la campagna acquisti del lino come tirano un porta fanno rete, fanno go come tirano un porta fanno go, non li ripara neanche corse molino e c'entra avanti? manca c'entra avanti manca c'entra avanti a mille cosa vuoi dire al presidente e a Gagliani? che lo comprino, che tirano fuori la grana la moneta perchè se no se no non si compete con quell'altro in campo internazionale e anche Piero Piero va vedere il capello guarda che ti vuole quella bambina là guarda che ti vuole quella bambina là guarda guarda guarda